Benvenuti a tutti ragazzi io sono FranCT e bentornati in questo nuovo video di Bus Simulator 2020 allora oggi siamo con Mercedes Facelit CNG in linea 767 ok bene passiamo un po il volume ok dovrebbe andare meglio allora accendiamo quindi motore ok aria condizionata ok posso sentire niente al motorista ok andiamo ok ok ah allora vi ricordo che presto farò live su Twitch presto ancora devo sistemare delle cose qua devo sistemare delle cose presto farò live su Twitch e questo mi potete seguire anche sul mio il mio canale su Instagram porterò storie qualcosa di qualcosa anche io mi mi espando perché so che molti youtuber anche su Instagram ce l'hanno una cosa lì però anche su Instagram ci sono e io sono l'unico che ancora non ci sono su Instagram quindi farò presto in profilo potete seguirmi e magari anche su Discord se volete farmi delle domande quanto parlare delle cose non so ok porca miseria qua qui ho fatto una frenata ho fatto una frenata della madonna tutto buon? ok va bene aspettiamo qui che si faccia verde ok ma il GPS ma il GPS dove cavolo è andato a finire il GPS non lo vedo più GPS eh no perché sennò poi non so manco io dove sto andando mi perdo sarà un posto se vedete che è lag è perché con la registrazione mentre registra con lag ancora di più senza registrazione non laga laga poco 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 laga con la registrazione laga quindi se vedete dei lag eh purtroppo è così non ci posso fare niente c'è nessuno qui no però qualcuno si deve fare per scendere ok allora valeo motorista ok 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 c'è scritto qua sale 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 chi sono i saldi ci sono mmm mmm ok 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 allora siamo quasi quasi aghi batti quasi guardate aghi batti ok ok è concluto il video con ha tiden che che ho sort è Ok. Ok. Oggi i rossi li becco tutti io, guarda. Oggi, l'altra volta invece il verde beccavo. Quando passavo io il verde lo beccavo sempre. Oggi becco sempre il rosso. Oggi va così. Siamo a fuori rossi. Ok. La freccia non la metto perchè se non lagga di più. La freccia fa laggare il gioco quindi... Vabbè sì, non bisogna preoccuparsi. Ce la puoi mettere lo stesso. Comunque lagga di più e non so cosa potrebbe succedere. Potrebbe fermarsi la registrazione. No, no, no. Vorrei evitare queste cose qui. Molto sia... Dai. Quanto c'era scritto? 8-12 minuti. Di cosa qui. Di tratto. Ho fatto quasi 8 minuti. Obbligato motorista. Ok raga. Va bene. Per oggi è tutto qui. Spero che questo video vi sia piaciuto. Comentati, iscrivetevi. Ciao ragazzi. Ci becchiamo alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.